Ciao, con questo video voglio mostrarti come si realizzano questi simpatici dolcetti a forma di cappello di strega da regalare o da utilizzare come segnaposto sulla tavola di Halloween. Per realizzarli ci serviranno degli Smarties, delle decorazioni di zucchero, del cioccolato già fuso, dei biscotti di pasta frolla al cacao, dei piccoli coni di wafer, un pennello ad uso alimentare e uno sozzicadenti. Il primo passo è spennellare il cono con il cioccolato fuso. Lasciamo che il cioccolato si asciughi e si solidifichi e poi riempiamolo con gli Smarties. Quindi andiamo a ricoprire anche il bordo con il cioccolato fuso. Incolliamo con una leggera pressione il frollino al cono e andiamo a ricoprire anche il bordo esterno con il cioccolato fuso. Procediamo alla decorazione facendo piovere sul cioccolato la granella di zucchero colorata Applichiamo una leggera pressione e poi scrolliamo via l'eccesso Ora non resta che completare la decorazione del cappello Io ho scelto queste stelline di zucchero e vado ad applicarle al cappello aiutandomi con una goccia di cioccolato Grazie per la visione E voilà, il cappello è pronto Non è carinissimo? Fammi sapere se questo video ti è piaciuto e alla prossima! Ciao!